Un picchetto condiviso fra i militari del 28esimo reggimento Pavia e gli agenti della polizia locale hanno accompagnato nel Duomo di Pesaro il ferretro di Roberto Biagiotti nell'ultimo saluto all'avvocato, consigliere comunale e provinciale, venuto a mancare giovedì all'età di 40 anni, metà dei quali trascorsi nel costante e generoso impegno al servizio della vita pubblica. Uomo di istituzioni e uomo di legge, valori in cui Biagiotti credeva fermamente e i quali oggi ha reso onore in Duomo la silenziosa e commossa partecipazione dei sindaci di oggi e di ieri Riccia Ceriscioli e di gran parte di giunte e consiglio comunale che sull'altare ne hanno decantato l'impegno e l'amore per la sua città. Cordoglio anche dal presidente della provincia Paolini, di esponenti del consiglio regionale e del parlamentare Carloni con cui Biagiotti ha condiviso le esperienze politiche a sostegno della Lega. Politici senza distinzione di schieramento uniti nell'addolorato silenzio per la perdita di un uomo leale strappato brutalmente all'affetto dei suoi cari da una malattia infame. Un cordoglio al quale si sono unite anche gran parte delle forze dell'ordine e della sicurezza. In Duomo presenti anche delegazioni del comando dei carabinieri, dei vigili del fuoco, della protezione civile. E poi ancora il mondo dell'avvocatura e quello dell'equitazione, professioni e passione ai quali Biagiotti si è dedicato anima e corpo. E sono state accompagnate da voce rotta dall'emozione l'elogio funebre dell'amico Giulio, così come l'omelia di Don Giampiero Cernuschi che da educatore è stato insegnante di Roberto 30 anni fa e l'ho accompagnato anche nei giorni più recenti della malattia. Dall'altare ha rivolto una carezza di conforto ai familiari che in questi giorni hanno perso un figlio, un fratello o chi come Khadija ha perso un compagno di vita e il papà del piccolo Nicolò di appena due anni. Un corridoio d'onore accompagnato fra gli applausi e l'uscita del ferretro dal Duomo verso il trasferimento al cimitero di Trebbiantico.